Musica Mercoledì 27 dicembre 2023, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Tele Regioni in apertura della nostra rassegna stampa. Abbiamo una notizia. Provincia di Teramo stritta sui controlli a Natale e Capodanno per l'operazione un Natale e Capodanno sicuri. Nel giorno di Natale diversi episodi di furti, risse e violazioni al codice della strada. Tra le azioni a Tortoreto i militari della locale stazione hanno individuato tre giovani che in assenza dei proprietari cercavano di introdursi in un'abitazione. Scoperti sono fuggiti a folle velocità per le vie cittadine. Uno dei tre è stato riconosciuto. Adesso sono in corso gli accertamenti per risalire agli altri due. A Teramo e Sant'Egidio i carabinieri sono intervenuti per la segnalazione di due risse. A Teramo tramite il 112 è stata segnalata una rissa in piazza Garibaldi. I carabinieri giunti sul posto hanno trovato un uomo di origine tunisina con ampie ferite al volto. L'uomo è stato portato all'ospedale di Teramo. Dei primi accertamenti sembra che la rissa avesse preso parte in sei, per cui sono in corso ancora gli accertamenti tendenti alla loro identificazione. A Sant'Egidio a seguito di problemi della viabilità stradale è avvenuta una rissa tra tre o più soggetti, alcuni non ancora identificati. Una persona estranea al contesto intervenuta per sedare la lite ha riportato delle lesioni non gravi. Nel corso dei controlli sulla circolazione stradale in sei sono stati fermati alla guida dei propri mezzi con un tasso alcolemico superiore al consentito. Altri due sono stati sorpresi alla guida dei propri mezzi dopo aver fatto uso di stupefacenti per tutti e scattato il ritiro della patente. E ancora una notizia a 60 anni dall'autonomia della Regione Molise. 27 dicembre 1963, 27 dicembre 2023, 60 anni di autonomia della Regione Molise. Oggi è una giornata importante per la Regione che sei decenni fa realizzava, grazie alla legge Costituzione 3 del 1963, il processo di autonomia regionale. Un passaggio fondamentale nel corso della storia del Molise che ne ha cambiato definitivamente la sua storia. Come annunciato dal Presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante, il calendario degli eventi sarà reso noto appena si avrà la certezza della presenza del Capo dello Stato, Mattarella. E poi la nostra rassine stampa, come sempre partendo dal regionale Primo Piano Molise. Nell'apertura, Molise, 60 anni di autonomia, aspettando il Capo dello Stato. 27 dicembre 1963 fu promulgata la legge costituzionale che includeva la ventesima tra le regioni del Paese. Eventi rinviati al 2024, Pallante pronte a rimodulare il programma in base alle disponibilità di Mattarella. La penne sedati i promotori, sapremo meritare la fiducia che oggi il Parlamento ci dimostra. Ancora sempre nel centropagina, Michele Pietravalle, ancora tanti dubbi a cent'anni dall'assassinio, il potente deputato e vicepresidente della Camera, dimenticato dal suo Molise. Nel taglio laterale, dentro la notizia, Sanità, Asrem, gli auguri del DG di Santo per le festività. Insieme usceremo dal tunnel. Venafro con l'auto contro il guard rail nella notte di Natale, ventenne in Neuroma e di Sernia. Dall'area urbana 164 mila euro in formazione per i disoccupati. Ancora Venafro, inquinamento, le opposizioni affilano le armi per la seduta del 29. Nel fondopagina, Clochard è morto a Pozzo Dolce, ok della Caritas alla fiaccolata. L'iniziativa di venerdì ha aderito anche rete della sinistra. Poi nel taglio laterale, il punto, firma di Francesco Roberti, insieme uniti per affrontare le sfide. Il taglio alto è dedicato allo sport Campobasso, in pochi gol presi alla base del primato, porta inviolata da quattro partite. Vasto Girardi e Ligi Crudele, proiettato al 2024, bisogna dare il 200% per la salvezza. Ancora la promozione con il Montenero, campione d'inverno, lotta serrata per il secondo posto. Ancora le testate regionali, questa volta gli abruzzesi, partendo con la prima del centro. Nell'apertura, area risulta sostavitata per i Pescara. Ad oggi il terminal bus è inaccessibile per il concerto di Capodanno. Ancora nel taglio alto, donne, negozi storici e barriere. Le nuove leggi al voto, Abruzzo. Oggi il Consiglio regionale. Poi ancora il terramano Adamoli, giusto tra le nazioni, salvò i rifugiati ebrei. Ancora le altre notizie. Nel taglio laterale, Abruzzo gli effetti del decreto vendite all'asta delle spiagge. Il bar impone un altro stop. Poi ancora a Teramo, stop per un anno, botte al parente di un paziente medico che viene sospeso. Poi c'è la cronaca nel centro pagina, trovata morta dentro case giallo. Gissi, sarta di 84 anni, aveva una ferita sospetta sulla schiena. La verità dall'autopsia. Poi ancora nel centro pagina, Abruzzo, il bonus ristrutturazione delle spese ammesse a detrazione. Lavori in casa, guida agli sgravi per il 2024. Poi ancora la festa del sociale. Oggi Roseto, la regione, incontra decine di volontari. Nel fondo pagina penne. Previste mille assunzioni da Cucinelli a Jackerson, il polo della moda pronto a decollare. Poi ancora Pescara, cementificio. I primi lavori partono a gennaio. Poi c'è lo sport e se Sebastiani vogliamo la B, ma con i conti in regola. Ancora le testate abruzzesi, questa volta con la prima del messaggero d'Abruzzo. Nel taglio alto, utente aggredito, medico sospeso all'ex guardia medica di Notaresco, spintone a un familiare che chiedeva la visita a domicilio per un paziente e professionista interdetto per un anno dal servizio. Nel taglio medio, muore a 38 anni, stroncato da una malattia un mese fa. Era deceduta la mamma con la stessa diagnosi a Prato-La Pelini, annullati tutti gli eventi. Cerimonia intima, la donna inglese uccisa, la salma attumolata a Casoli. Nel fiuti, vigilia all'aperitivo in 15.000 in centro. Poi ancora al Capodanno a Pescara, quattro giorni di lavori per il Maxi Palco, per Ipù. Nel fondo pagina Roccaraso, Rapinò, portavalori, preso latitante, in vacanza a sciare. Nel taglio laterale alla nonna d'Abruzzo, gli auguri anche del Papa, classe 1915. Poi ancora nel taglio alto, Pescara, morto Alfonso Vasile, un uomo, l'ultimo principe del foro. Univac, la ricerca, troppo iodio incide sul testosterone. Per lo sport, serie C, Pescara, c'è poco da festeggiare, un anno con più ombre che luci. Dalle testate regionali, molisane ed abruzzesi, uno sguardo adesso alle prime nazionali, come sempre partendo dal Corriere della Sera. Nell'apertura alla guerra, Gaza, la guerra che non si ferma, l'Ucraina all'attacco nel Mar Nero, colpita una nave da sbarco di Mosca. Israele, il conflitto, durerà mesi, stragi in un campo profughi a Natale. Sale la tensione con l'Iran. Poi nel centro pagina, le donne del 2023, i volti, le storie, leader politiche, scienziate e artiste. Di chi ci ricorderemo, da Giulia alla Nobel, chi ha lasciato un segno nel 2023. Poi nel taglio laterale, uomo, è stato arrestato, uccide la moglie e i quattro figli, orrore, in Francia. Dal Corriere della Sera, uno sguardo alla prima pagina della Repubblica. Nell'apertura c'è la politica. Governo, la grande crisi di Forza Italia, l'astenzione nel voto per la ratifica del MES. Apre il processo interno a Tajani. Il gruppo dirigente alle europee rischiamo di scomparire. Turne le fabbriche e imprenditori in lista. Il PD arriva la fase 2 per dialogare con riformisti e riconquistare chi ha lasciato il partito. Poi ancora le occasioni perdute del PNRR e mancano i soldi delle compensazioni. Mappamondi, nel centro pagina, sciolse in difficoltà, teme le spie rosse, è possibile l'addio da cancelliere. Diritti, novellara, si ribella al padre violento in nome di Saman. Dalla Repubblica, uno sguardo alla prima pagina del messaggero. Nell'apertura, bonus in arrivo, la stretta trattativa aperta sul 110%, di trazioni ridotte per i mobili e gli interventi sulle barriere architettoniche. Superbonus, ipotesi, sala straordinario, sanatoria, Giorgetti oggi alla Camera. Un balzo del 12% in più rispetto al 2022, fisco nel 2023, record di rimborsi, 22,4 miliardi per imprese e famiglie. Il ministro per le vetture prodotte in Italia, urso auto, un miliardo di incentivi per i lucli con i redditi più bassi. Nel centro pagina, i militari eroi, la ragazza voleva morire, poi l'urno, non mi lasciate, carabiniera a braccia, suicidio evitato. Poi ancora nel taglio medio, rogo a Malagrotta, l'ipotesi del dolo e il giallo del video, nuovo incendio nel deposito di rifiuti romano, da oggi PM a lavoro, la telecamera era a terra. Dal messaggero, uno sguardo alla prima pagina del tempo. Nel taglio alto, senza vergogna, ultime foglie sinistre, ha segnato un porto sicuro a Sea-Watch con 119 profughi, ma alla ONG non va bene. Dalla nave tedesca critiche accuse al nostro governo con l'aiuto di Demmeco. E in nome dell'inclusione l'opposizione continua la battaglia contro il Natale. Nel centro pagina, dopo l'incendio allarme rifiuti, da Malagrotta scatta l'emergenza gestione, si indaga sull'origine del rogo. Poi ancora, paura e feriti a Corso Francia, Maxi Rissa McDonald caccia due bande di giovani. Dal tempo, uno sguardo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, stampe opposizioni, obiezioni di coscienza alla conferenza di fine anno, la legge Bavaglio diventa un boomerang per Meloni, piedi 5 stelle compatti, con test line solidali, con Chiobietta e Sciò per ipotesi di astenzione. Poi ancora nel taglio alto, verso il 2024, dal Sudan a Kiev a Gaza, la guerra mondiale a prezzi a pezzi e invisibile. Ancora l'Iteta, Gianni Giorgetti, il pressing di Forza Italia, mini proroga al super bonus. Poi ancora sempre nel taglio alto, volte ritornano. Ora Gian Bruno, avvisa media, sette voglio, un Tg dal Fatto Quotidiano, uno sguardo alla prima pagina del manifesto. Caldo d'anno, il titolo nel centro pagina. L'anno record del caldo, si chiude senza inverno, aria primaverile, poche precipitazioni in Italia, anche nel resto del mondo. Il Natale non è più bianco, niente neve, vuol dire siccità in estate, ma anche da noi si pensa agli sciatori, sprecando acqua con l'innevamento artificiale di nove piste su dieci. Nel taglio alto, Gaza, oltre 100 vittime ad Al-Maghazi. Tel Aviv, uccido in generale iraniano a Damasco. Raid sui campi. Bibi durerà mesi. Dal manifesto, uno sguardo alla prima pagina della verità. Nel taglio alto, il processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il capo dei vescovi contro la verità. Nel centro pagina, il cardinale Müller, le coppie gay sono il peccato, benedirle è una bestemmia. Poi ancora nel centro pagina, le banche ora sono più esposte, l'ultima bugia agli orfaniti al messi. In caso di crisi, la dotazione sarebbe comunque insufficiente. Dovrebbero intervenire l'ABC. Dalla verità, uno sguardo al quotidiano economico del sole 24 ore. Ancora un riferimento al conflitto bellico. Assassinato un generale iraniano in Siria. Israele bombarda a Natale. La guerra durerà mesi. Nuove minacce di Teheran. Poi ancora partite IVA, flat tax con nuovi calcoli. Verso il Consiglio dei Ministri. Valutazione di superamento delle soglie in base al volume d'affari e non all'incassato. Il DL salva spese punta all'allinearsi alle misure dell'Unione Europea. Necessarie regole transitorie. Corrono i rimborsi fiscali. Record dell'IVA, più 15%, con il traino bonus edilizia. Poi nel centro pagina, la forza del Big Tech. Nei sette Big Tech capitalizzano più di cinque superbolse USA esclusi. Poi ancora gas stop all'aliquota agevolata. IVA da gennaio incognita. Sui rincari. Nel taglio laterale, assicurazioni, panorama, polizie catastrofali. Per le compagnie un'esposizione da 1.700 miliardi. Dal sole 24 ore, uno sguardo in chiusura al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport. Abbuffata Inter. Nel centro pagina vuole mezzo scudetto il colpo Buchnan. Inzaghi sogna girare a 50 punti e a red inverno. Venerdì a Genova dopo Capodanno è atteso a Milano l'esterno del Bruges. Poi ancora mercato nel taglio alto perché Bonucci sembra ad un passo dalla Roma. In zona Champions si compra. Bonucci Roma. Sì, i tifosi si dividono. Napoli, Samarzic vicino. Elmas invece ha i saluti. L'intervista all'ex guru del Milan. Un diavolo per capello. Avrei fatto altri acquisti. Pioli cambia la tattica. Poi c'è la Juventus con la Roma. Dujan in coppia con il Diz. La garanzia Vlaovic con lui. La Juventus non perde e ora chiede il posto fisso. Nel fondo pagina a Gland. Dieci anni dopo l'incidente. A casa Schumi. Il silenzio. Il campione. Quel Natale senza luci. Le feste del re della Davis. Sinner in pista. La missione australiana comincia sull'isci. Prima di chiudere diamo lettura anche del nostro palinzesto. alle ore 11 extra time. 12.25 slow tour. 12.45 ti racconto il Molise Isernia. Alle 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale. 16.15 extra time. Extra time. 17.45 slow tour. 18.05 speciale libro di Pasquale Damiani. 19.30 la nostra informazione in diretta con il telegiornale. Alle 21 viva la musica con Gigione. Alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi. Vi ringrazio per averci scelto. A tutti voi un buon proseguimento di giornata.